Ciao, benvenuto, benvenuta, bentornata o bentornato sul mio canale. Io sono Fabio Marinoni, educatore, istruttore cinofilo in riabilitazione cognitivo-comportamentale e autore del libro Non basta amare, bisogna sapere come fare. Se ti piacciono gli argomenti che parlano di cinofilia di cani, ti piace il mio modo di spiegare e di argomentare il vario mondo canino, mi raccomando, non ti perdi i prossimi video, metti un clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato o aggiornata sui miei video. In questo video voglio parlarti del cane molecolare, voglio spiegarti che cosa è, se esiste, se non esiste. Avrai probabilmente già sentito parlare dei cani in questi termini, no? Specialmente magari in serie tv o in servizi dal telegiornale o magari in giro tra educatori, tra persone, eccetera, eccetera, nominando questo fantomatico cane molecolare che è il cane che può, attraverso la ricerca olfattiva, trovare, che ne so, dei dispersi sotto le macerie o dei dispersi nel bosco o trovare spacciatori, eccetera, eccetera. E quindi si definisce questa determinata razza cane molecolare. Di solito questa descrizione viene data ai bloodhound. Bloodhound sono cani con una grande capacità olfattiva. Bloodhound vuol dire in inglese hound, cane da caccia, blood, sangue. Quindi il nome inglese richiama un po' questa cosa del sangue, del fatto che sia esperto in ricerca di tracce di sangue, macchie di sangue, eccetera, eccetera. Ed è per questo che viene poi definito cane molecolare. In realtà la descrizione è molto forviante perché le molecole di odore stanno dappertutto. Il sangue ha delle molecole di odore, le impronte che noi lasciamo sotto le nostre scarpe hanno delle molecole di odore, le nostre mani quando si appoggiano sopra qualcosa, io metto la mia mano sopra il mouse, qua sopra in questo momento ho lasciato delle molecole di odore, qualsiasi cosa tocco lascia molecole di odore, qualsiasi cosa su dove passo, anche con i piedi nudi o magari con le scarpe lascio delle molecole di odore. Tutti i cani, tutti, sono in grado di annusare queste molecole. I cani hanno dei recettori olfattivi che sono milioni di volte più dei nostri, sentono gli odori in una maniera completamente più approfondita rispetto a noi. Infatti questo è un punto molto importante da capire quando si vive con un cane, nel senso che spesso la gente sa, in generale, sa che i cani hanno un olfatto più sviluppato del nostro, ma viene veramente difficile immaginare che cosa realmente sentono con il loro naso. E se noi pensiamo che noi, quando inspiriamo così, sentiamo degli odori, possono essere la cucina, la mamma, il genitore, la compagna, chi sia che sta cucinando, o magari camminiamo per strada e sentiamo un odore particolare, i cani, tutto questo è moltiplicato per milioni di volte. E quindi sentono anche degli odori che noi non possiamo sentire, non riusciamo a sentire. Loro stessi i cani hanno un'area del cervello predisposta all'analisi di queste molecole molto più grande della nostra, sia in percentuale di cervello, ma anche proprio in centimetri. e quindi questo ci fa capire come i cani sentono gli odori. E quindi non esiste un cane molecolare, perché tutti i cani sono molecolari. Chiaro è che non tutti i cani hanno la stessa capacità di cercare gli odori e trovare gli odori. Per esempio, i cani bracchi cefali, che sono quelli che hanno il muso schiacciato, come i Carlini, i Bulldog, Shih Tzu, Cavalier King, eccetera, eccetera, Boxer, eccetera, hanno una canna nasale più corta, schiacciata, e di conseguenza hanno meno recettori olfattivi. Sentono milioni di volte più di noi, comunque, ma non sentono, non hanno la capacità olfattiva di cani con la canna nasale più lunga, tipo i lupoidi, i pastori tedeschi, i malini, eccetera, eccetera. E quindi si possono differenziare queste due morfologie sulla bravura olfattiva. Non è che un Carlino non può fare un gioco di ricerca o non può trovare un odore, però per farlo ci metterà magari più tempo e più sforzo rispetto a un cane con la canna nasale più lunga. Di solito, per lavorare con cani che fanno ricerca persone, eccetera, eccetera, anche a livello di protezione civile, i cani che vengono utilizzati per fare queste cose sono cani con una canna nasale normale. Di solito sono pastori tedeschi, border collie, pastori scozzesi, piuttosto che malin, eccetera, eccetera. Mentre è molto difficile vedere un boxer che va in ricerca persone, proprio per questo motivo. Però non esiste tecnicamente il cane molecolare perché tutti i cani sono molecolari, tutti i cani sanno sentire le molecole di odore molto più di noi, non c'è un cane che è specializzato in molecole perché le molecole di odore le sentono tutti i cani. Ci sono però morfologie di cani che riescono a sentire l'odore in maniera più approfondita e migliore rispetto ad altri. Ma, appunto, non esiste il cane molecolare. Con questo video è tutto. Mi raccomando, clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato e aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo al prossimo video.